Sei stanco di fare le solite presentazioni in powerpoint? Hai voglia di presentare i tuoi lavori scolastici in un modo più carino, più originale, più completo anche? Allora questa è la prima di una serie di tutorial che ti guideranno passo passo per imparare ad utilizzare Canva. Canva è un'applicazione che può essere usata per fare prodotti molto diversi tra loro, molto interessanti e soprattutto originali. In questa prima lezione ti guiderò passo passo per la registrazione all'applicazione e poi faremo una panoramica generale tanto per capire come funziona il programma. Cosa bisogna fare? Apri semplicemente il tuo browser che usi di solito e digiti nella barra di ricerca Canva. Normalmente compare per primo, comunque devi controllare che la dicitura sia questa. Clicchi su strumento gratuito per la progettazione grafica e ti si apre questa pagina. Cosa vuoi creare oggi? Creare perché effettivamente lo scopo di questa applicazione è quella di dare strumenti alla tua fantasia. Clicca su registrati gratis e qui puoi utilizzare tranquillamente l'indirizzo mail anche della tua scuola se hai un indirizzo di istituto oppure se hai un indirizzo tuo personale puoi utilizzare quello. Quindi ti consiglio di cliccare su continua con indirizzo mail. Ovviamente dovrai mettere il tuo nome o comunque insomma il nome che intendi utilizzare e poi devi inventare una password. Ricordati di scrivertela subito perché sennò rischi di dimenticartela. Completate queste due caselle, clicca su crea un account e qui si aprono delle schermate che chiedono alcune informazioni di base. La prima più importante è questa. Ti verrà inviato un codice all'indirizzo mail che hai utilizzato per l'iscrizione. Allora che cosa fai? Non fai altro che aprire la tua casella di posta. Vedrai una mail di Canva con l'invio di un codice. Tu copia questo codice lo inserisci in questa casella, clicchi fine ed ecco che puoi accedere all'applicazione. Digli che sei uno studente, se fai la scuola superiore puoi scegliere scuola superiore, se stai facendo la secondaria di primo grado è sufficiente mettere altro e poi cliccare su continua. Queste due schermate, questa e quella successiva, saltale. Aggiungi membri al tuo team, non ti interessa, per cui clicca pure salta e restiamo in contatto. Adesso puoi lasciare tranquillamente perdere, quindi clicca non ora. Ecco che finalmente sei entrato nella pagina iniziale di Canva. Ovviamente da questo momento in poi tutte le volte che tu accederai all'applicazione non ci sarà più bisogno di compilare le schermate che hai visto prima. D'ora in poi entrerai direttamente in questa pagina e potrai cominciare a lavorare. Adesso vediamo cosa succede la prima volta che accederai a Canva. Ti chiede qual è l'account che vuoi utilizzare se ne hai più di uno. Perfetto. Ora sei già registrati. Questo lascialo perdere perché sono le solite pubblicità che vengono fuori la prima volta. Adesso sei già registrato, quindi vedi che non devi fare più nulla di quello che abbiamo visto prima. Nella iconcina in alto a destra comparirà il bollino con la tua iniziale, insomma, per dimostrare che sei tu che stai lavorando nel tuo account. Questa è la pagina iniziale di Canva. Che cosa c'è qui dentro? In questa barra in alto sono raggruppate le tipologie di progetto. Per te ti suggerisce tutto quello che puoi che puoi fare. Lavagne online significa che ti danno delle schermate che servono più che altro per raggruppare e per ordinare degli argomenti. Poi abbiamo le presentazioni, né più né meno come sarei già stato abituato a utilizzare Google Presentazioni oppure PowerPoint. Qui ci sono delle tipologie che si adattano come dimensione ad essere poi pubblicate sui social. Puoi fare dei video, puoi stampare le cose che realizzi e poi ci sono tante altre possibilità. Questo te lo lascio esplorare con calma. Attento perché poi uno si perde e alla fine combina ben poco. Quello che tu invece dovresti fare è avere in mente che cosa vuoi realizzare e a questo punto cliccare crea un progetto. Vedi qui in alto a destra. Cliccando crea un progetto viene giù una menu a tendina e tu puoi scegliere quello che vuoi fare. Adesso andiamo su una cosa semplice perché a me interessa solo farti vedere gli strumenti quindi come funzionano gli strumenti. Perciò sceglierò documento A4, un foglio, un foglio bianco di quelli che si usano normalmente per stampare dei progetti. Le prime volte ti compariranno queste finestre che ti danno la possibilità di conoscere gli strumenti tramite le indicazioni che ti dà il programma. Se ti interessa fai prosegui oppure salta il tour. Questa è la pagina d'inizio. Qui c'è il foglio bianco ovviamente che abbiamo scelto di utilizzare. Nella parte sinistra invece ci sono le barre degli strumenti che sono le cose interessanti che vogliamo vedere. Allora cerca modelli di A4. Vedi che viene riportato il documento che noi abbiamo scelto. Noi abbiamo scelto A4 e quindi lui ti dice che modello vuoi utilizzare. Ti dà una serie di scelte. Vedi che tu puoi proseguire. Qui ti dà delle tipologie. Ok. Perché puoi creare veramente qualsiasi cosa. Oppure se tu hai già in mente un'idea puoi anche scrivere qui quello che ti interessa. Allora non lo so facciamo una prova. Scriviamo festa perché vuoi creare che ne so un invito per i tuoi compagni. E qua ti dà un'idea. Festa. Festa per bambini. Festa di fine estate. Allora diciamo così. Ecco che ti si apre una colonna di modelli che hanno come tipologia l'estate. Una festa d'estate. Può capitare che ti compaia questa scritta. Lascia perdere. I modelli pro sono quelli a pagamento. Quindi non ci interessano perché vedrai che ce ne sono talmente tanti gratis che non riuscirai nemmeno a utilizzarli tutti. Un altro modo per cercare un modello è quello di utilizzare i filtri che sono rappresentati da questa iconcina qui a destra. Vediamo cosa succede se io clicco. Puoi scegliere un modello in base al colore. Non so io voglio creare qualcosa e so già che il colore base sarà il rosso. Vediamo cosa succede. Se io clicco rosso applico il filtro ed ecco che nella scelta dei modelli mi vengono proposti tutti quelli che sono rossi. Non mi interessa più clicco cancella tutto. Posso scegliere una lingua. Ok. Io ti consiglio di lasciare come filtro gratis in modo che non ti vengano proposti i modelli a pagamento perché tanto non li puoi usare. Quindi per evitare di avere un sacco di modelli e poi magari scoprire che non sono utilizzabili tu metti gratis applica filtri. Benissimo. Adesso io voglio creare qualcosa che mi serve per la scuola. Clicco scuola ed ecco che ho qua la possibilità di scegliere tra questi modelli. Allora ma che ne so diciamo che voglio presentare la recensione di un libro che mi è stato dato per per le vacanze ok e invece di fare il solito foglio ecco scelgo questo. Io non ho fatto altro che cliccare con il cursore su questo modello ed ecco che il modello mi compare nella pagina che è la pagina in cui io lavorerò. Benissimo questo per quanto riguarda i modelli. Andiamo a vedere se io passo il cursore senza schiacciare senza fare niente. Semplicemente passo il cursore su questo foglio che mi si è aperto vedi che compaiono delle cornicette colorate. Cosa significa? Significa che io adesso sto esaminando questa questo elemento perché il modello che io ho scelto è formato da diversi elementi. Allora se io clicco che cosa succede? Succede che io posso cambiare questo elemento. Ad esempio posso dire non mi piace il rosso lo voglio azzurro. Ho cliccato sul colore azzurro e vedi che le tre barrette che nel modello originale erano rosse sono diventate del colore che ho scelto io. Io poi posso intervenire in tanti modi posso tagliarlo posso eliminarlo posso duplicarlo perché ecco qua volevo farne di più di barrette che cosa si posso rimpicciolirlo posso ingrandirlo posso copiarlo posso spostarlo dietro in secondo piano davanti allora in sostanza cosa significa questo? Significa che quando io scelgo un modello il modello è formato da più elementi e ogni elemento del mio modello è modificabile. Per ora ce lo teniamo qua questa informazione e poi più avanti vedremo in che modo utilizzarla. Andiamo avanti allora io ho scelto il mio modello guardiamo cosa c'è sotto nella barra sinistra elementi. Elementi mi dà la possibilità di aggiungere degli elementi cioè io posso ho una pagina bianca posso inserire all'interno di questa pagina degli elementi. Cosa voglio inserire in questa pagina bianca? Ma siccome sarà la copertina della della recensione del mio libro ma proviamo a cercare un libro allora io mi metto qua scrivo libro ed ecco che mi vengono date tutte le possibilità sui libri. Come potrai notare ci sono anche delle gif animate. Allora dipende che cosa vuoi fare tu. Se questa pagina di copertina della tua recensione del libro è qualcosa che deve essere stampato allora è perfettamente inutile che scegli una gif come questa. Se invece la tua copertina serve a una presentazione allora puoi anche scegliere di inserire qualcosa di animato. Vedi che qui c'è veramente tanto ci sono disegni, anzi applichiamo il nostro filtro così abbiamo solo quelli gratuiti. Allora ci sono delle foto animate, dei disegni animati, dei disegni fissi ma anche delle foto ferme quindi hai veramente tanta tanta scelta. Allora facciamo finta che noi dobbiamo poi stampare questa copertina. Il metodo è sempre lo stesso io clicco qui a sinistra e automaticamente mi viene inserito nella pagina quello che ho scelto con già l'evidenziazione in modo che io possa decidere di modificare l'elemento che ho inserito. Quando ho cliccato sull'elemento sono comparsi i consigli magici. Che cosa sono i consigli magici? Sono delle immagini che hanno qualcosa in comune con quello che ho scelto. Guardiamoli tutti. Io ho scelto una pila di libri e qui me ne dà altre due. Ok? Questa però mi piace di più per cui mi tengo questa. Quindi sono delle cose in più che puoi guardare. Benissimo. Ma io potrei anche decidere che ho fatto una bella fotografia del libro che ho letto e quindi voglio caricare quella. Come faccio? Ce l'ho sul mio computer? Semplicissimo. Per caricare degli elementi che io ho già preparato sul mio computer. Anziché stare nella sezione elementi vado in caricamenti Carica file. Clicco qui Vado dove ho, ecco qua, la copertina del libro Clicco Vedi che il programma sta caricando la mia immagine. Ok? È caricata. Anche qui Non faccio altro che cliccare sulla copertina e la copertina mi viene messa qua Allora io decido che metto la copertina all'interno della mia presentazione A questo punto dovrò mettere un titolo alla mia presentazione Ed ecco il terzo tasto Posso scrivere quello che voglio senza andare a cercare un modello predefinito O posso anche utilizzare delle scritte che sono già pronte È la stessa cosa degli modelli o degli elementi che abbiamo visto prima Allora andiamo sul semplice Aggiungi una casella di testo La sposto E dentro scrivo Il mio nome E poi Ecco qua Aggiungi un'intestazione È quella che mi dà ovviamente la scritta più in grande Che ne so? La metto qui E scrivo Relazione Del libro Ovviamente non sarà una cosa così brutta Ma è solo per farti vedere come funziona Terminato tutto Se voglio essere sicuro che non mi si spostino gli elementi Posso cliccare il lucchetto che mi indica il blocco della pagina Proviamo Vedi che non posso spostare più niente? Gli elementi sono fermi Ok, perfetto Se io non ho terminato il progetto Posso tranquillamente chiudere la pagina Non succede niente Quando io entro in Canva la volta dopo Mi trovo il progetto lì E io proseguo da dove l'ho lasciato Perché il salvataggio è automatico Se invece io il progetto l'ho finito Allora Clicco su condividi E qui posso scegliere Allora posso scaricare il mio progetto ad esempio sul computer Lo scarico in PDF Però volendo posso scaricarlo come immagine Se so che devo stamparlo posso scegliere stampa PDF Scarica Ecco fatto Vabbè, hai creato il tuo primo progetto Ti fanno i complimenti Dopodiché Io se vado sul computer Vado a cercare download Ecco qua Ho il mio progetto salvato Eccolo qui E lo trovo salvato nel mio computer E a questo punto io lo posso mettere Dove voglio Ci vediamo al prossimo tutorial Buon lavoro